Scompare la corsia preferenziale per gli autobus Lato Monte su Viale Marconi a Pescara, al suo posto nuovi parcheggi e pista ciclabile. Le importanti novità annunciate questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci al fianco dell'interaggiunta comunale e dei consiglieri di maggioranza. Da giovedì 20 marzo, dunque, grazie soprattutto all'apertura della viabilità nord-sud su via Benedetto Croce, cambia significativamente anche la transitabilità sull'arteria principale nella zona di Porta Nuova dopo le tante polemiche dei mesi scorsi. Il tema reale che è stato sollevato da tutti è stato quello legato alla corsia preferenziale Lato Monte nord-sud e l'eliminazione dei parcheggi conseguenti all'introduzione di quella corsia preferenziale. Oggi noi eliminiamo quella corsia preferenziale proprio perché c'è un'altra viabilità parallela che è quella di via Benedetto Croce e introduciamo nuovamente i parcheggi in modo tale da dare risposte concrete ai cittadini, sapendo anche di aver interloquito con la tua a cui abbiamo spiegato il tema e comunque abbiamo lasciato la corsia preferenziale sud-nord che dà uno sfogo importante alla mobilità pubblica. Altra novità è la chiusura delle rotatorie, non sarà più necessario che gli autobus passino attraverso. Questo grazie a un monitoraggio dalle situazioni in base alla quale risulta sostenibile il traffico promesco auto privata e trasporto pubblico in direzione nord-sud. Sulla commissione poi l'indagine richiesta dei partiti d'opposizione per tutto ciò che è accaduto riguardo ai tanto contestati lavori su Viale Marconi, Masci parla di richiesta tardiva esposta alle responsabilità per tutto ciò che è accaduto alla Giunta Alessandrini. Avendo fatto questo abbiamo potuto lavorare pure sulla rivisitazione del progetto di Via Marconi e per il superamento della viabilità che è stata prevista ad agosto 2018 perché il progetto è partito ad agosto 2018 ed è stato approvato concretamente il 24 maggio 2019, tre giorni prima delle elezioni che mi hanno indicato come Sindaco dalla precedente Giunta. Grazie.